I tecnici della regione proseguono con i sopralluoghi nelle zone colpite dal maltempo, con l'obiettivo di consentire la stesura della relazione per la richiesta dello stato di emergenza. Anche oggi i tecnici delle opere pubbliche e della protezione civile sono impegnati in una serie di sopralluoghi per definire una prima stima dei danni. Dalle valutazioni attuali i danni sono consistenti, ma per fortuna non riguardano le persone. I tanti interventi di messa in sicurezza sono un'intervento di un'intervento di un'intervento News 24, la tua nuova tv locale.